E' un'altra parte di un'altra parte. Se lui non dici qualcosa questi non parlano! Vado! Carla! Ti prego ragazzi! Ti prego! Oh, addio! No, che neanche ci sono! Non provate a partire più di noi! Stiamo riprendendo neanche un'altra parte. Sì! Verranno comunque assegnate delle fasce che gli consenteranno di accendere dei diritti all'esercizio. Da quella... Da quella... Il concorso sono usciti con i personaggi di cui parlavamo prima. Carla e Gargo! Chi visti carico? Gargo! Gargo, Gargo! Ok, allora... Grazie, se mi andassi un pelo, mi dicevo l'orecchio. Se sfondo già io, però per questo potete. Mi spiace per le altre, però ripeto queste cose, io ti giuro. Le farei passare tutte. Certo, il pubblico suo mi spiace se mi siedi. Certo! Alunni... Subini! Un applauso per la Alice! E noi abbiamo qui la sorella! E' felice! La mamma! Un urlo di gioia! Uuuuh! Non c'è la voce da un palco! E' fina che la va! E' fina che la va! E' fina che la va! E' vero, c'hai ragione! C'hai ragione! C'hai ragione! Vabbè, non dire niente! Altre fingere! Non dire niente! Elena Berlini! La numero nove! E' la fine lista! Bravo Elena! L'ultima! L'ultima! L'ultima che passa! No! Tutti bravissimi! Mi credo che mi prendete bene! Ma soprattutto si parecissime! Anaïse Shaman! Eccola! Eccola! Le altre grazie! Vite pure con me! No! Io vorrei rivederti in passerezza! Ragazzi salutiamo! Fatemi vedere ancora! Grazie! Bravissime tutte! Tre finaliste! Che concorrono al titolo di Inferis! Che rilita! Due minuti! Si sono loro! La numero 18! La numero 4! La numero 9! Grazie ragazzi! Sulle donne! Io sulle donne! Posso dirti chi vince! Attenzione! No no! Di mio eh! Eh si! 5 minuti! Faci! Devito! 10 minuti! Inferiare Grazie. 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 Sono andato a prendere la busta con... Con i soldi? Sì, no. Possiamo andare. Tra l'altro, ragazzi, tutto piacere. Lo scherziamo, eh. Lo scherziamo. Buttiamo le mani avanti, salutiamo tutta l'organizzazione. Questo centro di trattenimento che l'entra, signor Micio, dall'altra parte... Vai avanti. Tra le donne più belle del mio. Vedi, perché la voglio farlo. Su questo ci puoi ascoltare. Allora, che faccio? Parto dalla terza, chiedo io o... Sono dalla prima. Dalla terza. Ok. In questo livello su tutto è un bel mondo, eh. Tutto è numero uno perché tutti i primi nenti che non avete avuto il tre. Non ce n'è una che non avrei messo il numero uno tra loro tre. Eh sì, è vero. Allora, per lei... Premi a costa Angelo, giusto? Angelo, ci sei? Sì. Con una fascia, che è della mia vita. Sì. La numero quattro, che è la serietta è grande. Sì. Sì. Eccola qui. Ricordiamo che i primi tre verranno segnati a cantare le fasce. Che consegna... Di sostanzi. Che possiamo fare anche, non lo so, un testo al cuore. La mora viola. Cioè, non si sente niente di quelli che... In prima fila hanno detto tutti proprio l'ananimità. La mora. La mora. E io dico la viola. E io pure. Eh sì, dai. Senza. Non so, eh. Non mi ricordo perché i numeri... Fatti vedere come... Non avete più i numeri. No, il problema infatti, scusateci, è questo. Perché non hanno più i numeri. Quindi facciamo vedere. Guardare i nomi... I numeri non ci sono. Davolo, eh. Lo dico? Andiamo a caso. Dillo. Ok, a caso. Si è scritto bravo. La... Diciotto. E cosa è? Diciotto. Insomma. Le aspettative. E quindi... Non so se dire... Chi può essere... Secondo te chi ha vinto? Ma guarda, non lo saprei. È veramente difficile. Cengo il foglio nascosto perché non voglio che da qui dietro mi spicci. Senti, penso a caso. Eh, per il mucchio. Cosa ti avevo detto io prima? E... E forse ci avrei preso. È vero. È vero. Io ho fatto una semprevisione, come sempre accade. Certo. Il numero... 9 vince e diventa Mr. Litta. Dottorina Mucci. Eccola! Ricordiamo la mia noma che ci dice... Rassegnato un buono acquisto. Le parole di Euro 500. Non spende il nuovo. E' un buono che si considera qui al centro di trattamenti. Per linda. Ecco il buono che viene consegnato da Angelo. che ricordiamo a sua posta essere il più bello d'Italia. Il volto più bello d'Italia. Figuriamoci gli altri. No, sto scherzando. Complimenti. Complimenti. Mi permetto di scherzare anche come vedi. Dal mio volto... Tutto buono. Tutto quello. Allora... Ok, grazie allora... Le ragazze rimangono, supponso. E passiamo ai maschietti. Ah, certo. Ok, allora attenzione perché... Abbiamo un pari merito, sono i quattro anziché i tre. Certo. Quindi un pari merito al terzo posto. E... Pari merito al terzo posto. E... In questo caso per pregare. Scusa. Ma lo prego. Per pregare. Sì. Potremmo fargliela mettere una unica schiena contro schiena. Scusa. 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 Lui è il manzo. Lui è il manzo. È il manzo. Eh, comunque ragazzi. Io avrei previsto un altro numero uno con la fagliene. Io avrei previsto. E ti fa... Non lo so. Complimenti ragazzi, complimenti. Allora, che farei il premio alla teoria? Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Oh, sette anni! Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. Allora, quindi diciamo che è arrivato lì. No, no, perché loro stanno solo lì da un premio. No, certo. Cioè, Justin Bieber ha detto. Justin Bieber? Justin Bieber! Justin Bieber ha un nuovo ragazzo. E poi mi ha fatto. Allora, dai. Diciamo con Mr. Gerlinda 2011. E te lo vedi, Stuntocca 16 anni. Stuntocca 16 anni, eh? Mr. Gerlinda è il numero... Oh! Spero di non sbagliarmi. Due! Sì, sì. 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 Lo sapremo perché è quello che avevo detto. Tutto prima. E Francesca, premia. Francesca, che in realtà è stata Miss Umbria. Miss Umbria, vero, Dottor? Miss, che era il primo voto Umbria. Dottor? Tu hai la voto, Dottor? No, vai qua dietro. No, vai qua dietro. Ok? Allora, ricordiamo che a tutti i ragazzi, appunto, sono state assegnate le fasce. Quindi loro partecipano di diritto alle selezioni regionali di Miss Grand Prix a punto. Sì, sì. Sì, sì. E anche in secondo, lo troverete terzi classificati nello sfidato finale. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì.